6.75 la performance, 6.58 la coreografia, 6.50 l'interpretazione. Pronti per seguire Rebecca Ghilardi, Filippo Ambrosini e il loro bellissimo programma perfetto per questa giornata perché hanno scelto, avete scelto, Grande Amore del Volo. Buon San Valentino e buona performance. Buon San Valentino e buon San Valentino e buon San Valentino. Buon San Valentino e buon San Valentino e buon San Valentino. 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 Non c'errai mai, dimmi chi sei, la sfida dei giorni miei amore, dimmi che far, che solo non c'erierai, ora lo fai, questo è un'unico grande amore. Non c'errai mai, dimmi chi sei, la sfida dei giorni miei amore, dimmi chi sei, la sfida dei giorni miei amore. Non va all'up lanciato, c'è un step-out pesante. Ma va meglio il flip? Vedo solo te, dimmi perché quando vedo, vedo solo te, dimmi perché quando credo, credo solo in te. Non c'errai mai, dimmi chi sei, la sfida dei giorni miei amore, dimmi chi sei, la sfida dei giorni miei amore. Dimmi chi sei, la sfida dei giorni miei amore. Bellissimo! Finale crescente! Questo finale è d'effetto incredibile. Ultimi due lift veramente molto molto bene, peccato le imperfezioni sul lanciato, peccato perché di solito quel lanciato anzi è uno dei migliori, però insomma direi che tutto sommato è un bel programma anche per loro oggi. Da allenatrice allora? Perché sei la loro allenatrice? Bene, li ho visti pattinare veloci e determinati, questo è quello che gli abbiamo chiesto, Filippo assolutamente voleva essere performante in questo giorno di San Valentino con questo programma. E lui è stato, devo dire che il messaggio lo ha mandato, poi devo dire avete curato nel dettaglio anche il costume di Rebecca che mi spiegava che c'è questo cuore e dice fa un po' freddo. Però avete fatto veramente un lavoro straordinario e questo crescendo finale devo dire che è d'effetto veramente che non ci sia il pubblico, che peccato. Eh sì, è un peccato perché è qualcosa che il pubblico potrebbe gustare assolutamente su questa musica. Però c'è il pubblico a casa, c'è il pubblico di Rai Sport che insomma avrà colto il messaggio di buon San Valentino di Rebecca e Filippo. È arrivato un downgrade per l'ultimo doppio tolup e adesso sono sotto revisione i lift, i lift finali. Questa è parte della sequenza coreografica, della corosequence e qui il triple loop lanciato non era tanto fuori asse però veramente tanto alto. Forse è un po' esagerato Filippo nel lancio, qui invece c'è il flip lanciato che è sbilanciato avanti ma non appoggia le mani, non succede niente di così tragico. C'è ancora un review sull'ultima spirale, questo invece è l'ultimo lift, lo star, il passaggio sotto per l'uscita difficile e questa è la spirale interna indietro. Vediamo cosa stanno ancora valutando ed eccolo qua, il loro programma libero è 113,49 con 54,69 di tecnico e 58,80 per quanto riguarda i loro components, quindi il loro totale di 172,78. Grazie. Grazie. Grazie.